Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Maria, sede della Sapienza, prega per noi. Continua la storia sacra, undicesimo episodio. Salomone. I due regni. Salomone. Salomone, in giovanissima età, salì sul trono del Padre. Egli era rimasto famoso nella storia per la sua grande sapienza. Un giorno si presentarono a lui due donne. Entrambe avevano un bimbo di pochi giorni. Uno di questi, durante la notte, era morto. Ognuna delle due pretendeva che il bambino vivo fosse il suo. Salomone ordinò di tagliare con la spada il bambino vivo e di darne metà a ciascuna. Ma una delle due donne esclamò Per pietà, Signore, piuttosto date a lei il bambino vivo, ma ucciderlo no. Non lo uccidete. L'altra, invece, diceva Non sarà né mio né tuo. Sia diviso. Allora il re sentenziò La vera madre È quella che vuole il bambino vivo Sia dato a lei Con la sapienza Il Dio diede a Salomone Ricchezze, onori e gloria Egli infatti Abbellì Gerusalemme Estese i domini Costruì una flotta Ma l'opera sua più grande fu la costruzione del Tempio di Gerusalemme Un Tempio meraviglioso Pieno di marmi e d'oro Era l'orgoglio dei figli di Israele Oltre al Tempio Salomone costruì per sé Una reggia Ove accorrevano i re e gli scienziati della terra Eppure, nonostante tutta la sua sapienza e la sua gloria Negli ultimi anni della sua vita Salomone cadde in molti peccati Dio sdegnato Gli disse che dopo morte Che dopo morte il suo regno sarebbe stato diviso Salomone ha lasciato scritto Sulla terra ogni cosa è vanità Temi Dio E osserva i suoi comandamenti Perché qui sta il segreto della vita I due regni A Salomone successe il figlio Roboamo Già sotto il regno di Salomone Il popolo era malcontento Perché sovraccarico di tasse Roboamo anziché diminuirle Le acrebbe di più Allora dieci tribù si staccarono da lui E formarono il regno di Israele Con capitale Samaria Due sole triburi gli rimasero fedeli E formarono il regno di Giuda Con Gerusalemme per capitale I re che si successero nel regno di Israele Furono tutti empi e malvagi Proibirono ai loro sudditi Di recarsi a Gerusalemme E perseguitarono i profeti Che il Signore inviava loro Stanco di tante iniquità Dio permise che il loro regno fosse per sempre distrutto dagli Assiri Condotti schiavi in Assiria I poveri israeliti furono ridotti in estrema miseria E torturati in mille modi La maggior parte di essi morì miseramente Il regno di Giuda invece Ebbe molti re buoni Perciò durò più a lungo Non mancarono tuttavia re cattivi E idolatri I quali attirarono sul popolo I castighi di Dio Prima di morire Mosè aveva caldamente raccomandato Di osservare il patto stretto col Signore Perché il giorno in cui Essi avessero abbandonato il loro Dio Egli li avrebbe abbandonati Nelle mani dei loro nemici Così fu Dio punì il regno di Giuda Come aveva già punito quello di Israele Il re di Babilonia Salì contro Gerusalemme E la distrusse Il magnifico Tempio fu dato alle fiamme E la maggior parte dei Giudei Fu condotta schiava a Babilonia Dice il profeta Esaia Guai alla nazione peccatrice Sia lodato a Gesù Cristo In nomine Patris e Fili E Spiritus Santi Amen